E ci spostiamo a Petrosino, nuovo cartellone estivo targato 2021, quello presentato per l'appunto dal comune guidato dal sindaco Gaspare Giacalone, che sentirete nel servizio insieme a Federica Cappello, assessore al turismo. Petrosino riparte di nuovo con la cultura, la musica, il teatro e l'artigianato. Ringraziamo tutte le associazioni, i privati che hanno contribuito a rendere questo cartellone estivo ricco di eventi di partecipazione della cittadinanza e del mondo dell'associazionismo. E poi gli eventi di punta che sono rappresentati dai concerti. Il mese di agosto sarà davvero un mese importante per il comune di Petrosino perché pensiamo che tutte queste manifestazioni e questi eventi possono avere davvero una buona ricaduta economica. Questo cartellone artistico quest'anno ha maggiore significato perché non è soltanto aglietare l'estate ma anche in qualche modo bilanciare un periodo davvero brutto che abbiamo passato con la pandemia. Per cui braccia aperte innanzitutto ai giovani con cui abbiamo collaborato nelle scelte anche degli eventi che abbiamo fatto, dei concerti, degli artisti. Sono stati molto bravi, hanno fatto un sacrificio enorme e stare rinchiusi a casa per un ragazzo, una ragazza, degli adolescenti, insomma è davvero un trauma. E poi anche alle attività sia di ristorazione e tutte le attività turistiche perché anche loro hanno avuto un momento particolarmente difficile. È sempre stato un crescendo. Petrosino negli ultimi anni ha avuto davvero una crescita delle presenze incredibili. Tante attività che non c'erano prima e non ci saremmo mai sognati sono sorte. Io ricordo a tutti che qualche anno fa quando io comunque sono diventato sindaco in questo litorale non c'era nessun locale e oggi invece è tutt'altra realtà. Grazie a tutti.